Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Silica Pagliari del Regno, oggi sono a mostrare delle partite per repugnere, sperando di provare un brawler nuovo. Mi ha mostrato anche delle partite. Vediamo se riusciamo a riuscire col colto, vediamo, e vediamo, e se riesco da mangiare col colto, e vediamo ancora, vediamo cosa possiamo fare. No, c'è ancora il sol, non lo considero, non lo ripeto la casa, non lo ripeto, non lo ripeto. Mi bando. No, non lo ripeto, non lo ripeto. No, non lo ripeto. No, non lo ripeto. No, non lo ripeto. No, non lo ripeto. E non lo ripeto. Porque nel cambio, vediamo. Bene, ad ora? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.